Non ci prenderei neanche te l'ultimo Ti farei di tutto Mi innamorerei come fosse Come pago al cuore Non si può, non si può, non si può Non si può, non si può, vai Scappa via Scappa via, scappa via Scappa via Franchino, arrivo Tempo mai di poter cambiare idea Non si può, non si può, non si può Franchino, siamo in diretta a Facebook L'hanno fatto le corner ragazzi Non si può, non si può, non si può Ragazzi vai che uno non si può Scappa via, scappa via, scappa via Ragazzi non ti sentire, che spettacolo Ragazzi non si può, non si può, non si può, non si può Ragazzi non si può, 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 non è uno spettacolo vogliamo alto caligioni sul palco tu sei un uccente in fantasie il nobilo di te che mi porta a via non si è un uccente, oi me poi via tu sei quella gente che non è e tu tante robe che facciamo Ma andiamo a intervistare Daniele Battaglia, scusate, scusate, ciao come va, è tutto a posto? Ma più o meno ciao, sei in diretta su Facebook, eccoci qua, eccoci qua. Allora, Franck, io siamo in diretta su Facebook, salutate, mi sono chiamato quattro volte. Non rispondo più a te, solo messaggi, solo messaggi. Come stai? Ti piace con cerca, hai visto quanta gente c'è, ma cerca. Saluta a tutti, ciao! ma dove sei andato? non sei scelta tra il mondo dopo vengo a salutare dov'è che sei? in Italia allora attenzione ciao Daniele come va? bene c'è franchino che ti deve dire una roba dopo ti dico il tuo palazzo salutiamo salutiamo salutiamo